Allora, noi che cerchiamo di scrivere le canzoni, sapirà di questo impegno che, come direte Giacomo, è antistorico ormai, perché comunque c'è una capacità di ascolto che sta cambiando, ma sta cambiando forse anche l'ambientazione delle canzoni stesse. E noi che proviamo a fare questo, ci interroghiamo in attenzione, facciamo delle bellissime cene e vediamo grandi punti di vino parlando di come andrebbero scritte le canzoni che non lo capiamo mai. Poi ci sono canzoni come questa che pari, pari, non dicano nulla, invece dicano tante cose e cerchiamo di capire come funziona. Non lo capiamo e li cambiamo. Naturalmente penso che si può fumare. Ci sono donne in città? Ci sono donne in città? Ci sono donne che vogliono essere messe in città? Ci sono donne in città? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti